ah li trovi dentro roba è bravo molto meglio riempilo un po e basta beh te scherzi guarda che sotto ho trovato portafogli vuoti ma li ho trovati è perché lì dal ponte quando li ruba li butta giù dal ponticello anche questo potevano rischiare ma se va in mezzo ci ciuola poi meglio lasciarlo stare meglio liberati di lì e però se lo liberiamo un po per così ci passiamo di fianco anche un altro tombino però questo ci riusciamo sì ma quello la che mi scoccia è rossa come no siamo arrivati però è quello lì scontriere da dietro è perché da qua l'ha portato via però se te le tagliava su in cima ti tagliava una volta sola questa ha tenuto ceduto sotto qua ma ha tenuto quasi tutta questa c'era già vinta un fa cacchio lavori di una volta lavori di una volta